Buongiorno, in questa lezione parleremo di classi e moduli per quanto riguarda javascript in sostanza vedremo il meccanismo dell'ereditarietà come è stato implementato e pensato per javascript e quindi andremo a discutere sostanzialmente del meccanismo che java ci mette a disposizione che è un po' diverso da quello di tutti gli altri linguaggi di programmazione e che è quello dei prototipi qui in alto a destra come sempre trovate le risorse su cui ci siamo basati e su cui vi potete basare per approfondire i concetti vi invito in particolare per questa lezione che è forse un po' più complicata delle altre perché il meccanismo è un po' insolito ad andare a consultare questo materiale e eventualmente andare a approfondire Bene, prima di tutto sottolineiamo come javascript sia un linguaggio basato orientato agli oggetti ovviamente come abbiamo già visto anche più volte nello scrivere il codice ma fondamentalmente basato sui prototipi piuttosto che sul concetto di classe la classe è un modo di esprimere le proprietà che tutta una certa serie di istanze hanno nei linguaggi oggetti diciamo così tradizionali tipo java invece javascript ha questo meccanismo dei prototipi che è un meccanismo che collega insieme tra loro direttamente le istanze anche se in javascript forse non è tanto corretto parlare appunto di classi e istanze perché non ci sono questi concetti quindi ci sono solo gli oggetti e ci sono oggetti collegati tra loro tramite una catena apposta poi vedremo nella seconda parte della lezione che esistono le classi sono state introdotte in una versione recente del linguaggio ma sostanzialmente sono solamente una questione di tipo sintattico e al di sotto il meccanismo continua ovviamente a funzionare come previsto dal linguaggio in maniera originale quindi dobbiamo assolutamente conoscere questo sistema dei prototipi perché altrimenti non riusciamo a comprendere come mai avvengono certe situazioni che poi ci troveremo ad affrontare quando usiamo le classi e così via bene, prima di tutto sottolineiamo che ogni oggetto javascript ha una proprietà interna nascosta che chiamiamo in questa maniera prototype con le doppie quadre questa è solo una rappresentazione di tipo grafico per dire che ci riferiamo a questa proprietà che punta ad un secondo oggetto che è associato con il primo oggetto quindi con questo oggetto ogni oggetto in javascript è un oggetto che punta ad un altro oggetto tranne per uno specifico oggetto come vedremo che ha questa proprietà uguale a nulla e quindi non punta a nessun altro e dell'oggetto diciamo così capostipite di tutti gli oggetti possiamo andare a lavorare con questa proprietà seppure non è così agevole perché abbiamo appunto la necessità di usare questi due metodi particolari object.getprototypeofobject per andarla a leggere nel nostro codice setprototypeof per andare eventualmente a settarla quindi questo nel momento in cui dovessimo lavorare con questa speciale proprietà interna e questa proprietà è anche accessibile con queste sintassi doppio underscore proto doppio underscore che è deprecata che però è stata abbastanza utilizzata ed è ancora abbastanza utilizzata e quindi diciamo che può essere utile nel momento in cui provate a fare degli esperimenti magari sulla console piuttosto che diciamo prove veloci così ed è più comoda da utilizzare essendo appunto un punto qualcosa come una classica proprietà piuttosto che appunto usare un metodo così lungo da scrivere eccetera tra l'altro è anche il modo con cui la vedete per esempio nel Visual Studio Code se volete andare ad esplorare qual è il valore di questa particolare proprietà e cosa che vi invito assolutamente a fare per diciamo comprendere meglio gli esempi che vedremo su queste slide difficilmente guardando solo le slide senza fare un po' di pratica provando il codice che mettiamo si riesce a comprendere tutto diciamo alla prima passata questo secondo oggetto che è linkato da questa proprietà doppia quadra prototype è anche conosciuto come oggetto prototipo quindi object prototype in inglese a sua volta questo essendo un oggetto siccome è un oggetto anche lui la sua proprietà prototype quindi doppia quadra prototype eccetera fino a che troveremo un oggetto che avrà questa proprietà settata null e tipicamente nel nostro ambiente di esecuzione c'è solo un oggetto che ha questa proprietà prototype settata null che è l'oggetto object quindi l'oggetto di più alto livello è quello in cima alla catena dei prototype che appunto non punta a niente altro perché è il primo il capo stipite e quindi ha il valore null dico di solito perché magari con qualche libreria qualche cosa può succedere che diciamo con trucchi vari eccetera ci siano delle situazioni in cui questo non è l'unico oggetto per cui accade ma diciamo che per ora ci basta pensare che questo effettivamente sia l'unico oggetto sul quale accade questa diciamo cosa notate che in javascript le classi e le funzioni che useremo come costruttori hanno anche una seconda proprietà che sfortunatamente si chiama nello stesso maniera punto prototype dico nella stessa maniera nel senso che è andato lo stesso nome però vedete che qui per distinguere abbiamo usato la doppia quadra e prima usavamo appunto questa doppia underscore proto quindi in realtà se poi le andate a esplorare che so in un debugger le potete distinguere però sfortunatamente si chiamano tutte e due prototype e bisogna fare attenzione a non confondersi perché sono due cose diverse quindi non confondiamo il punto prototype con il prototype dell'oggetto il punto prototype punta all'oggetto prototipo che serve a creare nuovi oggetti e questo appunto è un oggetto diciamo così di servizio che viene creato automaticamente quando creiamo una nuova funzione o una nuova classe e che servirà come prototipo dei nostri nuovi oggetti quindi per esempio quelli creati con il new su una funzione che ci ritorna un oggetto vediamo un esempio grafico per riuscire a capirci meglio qui a sinistra trovate un pezzetto di codice molto semplice codice che abbiamo già visto che diciamo conosciamo anche abbastanza bene definiamo una normalissima funzione person con la p maiuscola semplicemente per nostra comodità per ricordarci che con questa vogliamo poi usare il new e creare degli oggetti creiamo questa person che prende un parametro name e setta sull'oggetto che creerà col new this name uguale name e poi andiamo a creare un nuovo oggetto p new person passandogli un parametro questa scrittura con la new come sappiamo crea un nuovo oggetto questo nuovo oggetto appunto avrà la sua proprietà name creiamo un oggetto da una funzione di libreria quindi con la new new date creiamo un nuovo oggetto date è diverso da chiamare solo la date che ci ritorna una string vi ricordo new date ci torna un oggetto un nuovo oggetto creato con una certa serie di proprietà oppure possiamo creare un oggetto con la solita sintesi javascript quindi un cosiddetto object literal semplicemente aprendo le graffe e scrivendo qualcosa quindi le sue proprietà e questi sono tre tre oggetti che possiamo stampare come abbiamo sempre fatto con il console log e ci verrà fuori diciamo la le nostre solite la nostra solito formato stringa del diciamo del contenuto dell'oggetto analizziamo la situazione dal punto di vista del dei prototipi e della della proprietà prototipo quindi cominciamo dal caso più facile che l'object literal quindi quello con le graffe r r è un oggetto come tutti gli oggetti abbiamo abbiamo detto che ha questo prototipo questo prototype che punta in questo caso direttamente al prototype dell'oggetto che è lo stesso che viene puntato dalla proprietà questa volta prototype della funzione object che è quella diciamo che avete a disposizione nell'ambiente di esecuzione e che è diciamo quella che crea oggetti per esempio con object create come vedremo tra poco quindi tutti gli oggetti questo oggetto già creato a disposizione all'interno del nostro ambiente di esecuzione come oggetto globale questo nuovo oggetto che abbiamo creato così come tutti gli altri oggetti che creeremo punteranno a object prototype che è l'oggetto padre di tutti gli oggetti che come dicevamo ha il suo prototype che punta a null quindi qui si interrompe la catena dei prototype prototype object prototype e il prototype va a null quindi questa è la situazione più semplice nuovo oggetto creato oggetto diciamo padre possiamo dire così è il prototipo di tutti gli oggetti che poi ha come padre null ok guardiamo D D l'abbiamo creato come oggetto usando una funzione di libreria col new quindi abbiamo chiamato una funzione già definita nella libreria quindi non l'abbiamo messa nel disegno avremmo potuto metterla e sostanzialmente questa funzione quando adesso vediamo un po' l'altra funzione vediamo come si colloca questa funzione come tutte le funzioni ha il suo prototype che si chiama date.prototype ed è accessibile come date.prototype e che ha il suo prototype questo con le doppie quadre che come tutti i prototype di tutti gli oggetti va a finire sull'oggetto padre di tutti gli oggetti che è quello che poi va a null cioè l'objet prototype quindi questa è la situazione nel momento in cui abbiamo creato D e D ovviamente avrà poi le sue anzi il date.prototype avrà tutte le sue proprietà che sono poi accessibili da D e vedremo come queste sono poi accessibili nel caso appunto del prototype vediamo la situazione diciamo un pochettino più complicata nel momento in cui utilizziamo una funzione che abbiamo definito noi cominciamo dal reference al nuovo oggetto che è facile questo è il P reference al nuovo oggetto che è ritornato dal new person che ha un prototype come tutti gli oggetti siccome è un oggetto creato da una funzione come il date avrà il suo prototype che punta al nome della funzione punto prototype questo è un altro oggetto cioè nel momento in cui viene creata una funzione che è questa person che è essa stessa un oggetto un oggetto un po' particolare ma è un oggetto questa nel momento in cui creiamo la funzione viene creato automaticamente anche il suo prototype direttamente dal linguaggio nel momento in cui incontra function person bene sa che deve creare un oggetto person che è una funzione e sa che per ogni funzione va creato un prototype e quindi automaticamente crea person prototype questo person prototype è al suo prototype che va a finire direttamente nel pad di tutti gli oggetti cioè l'object prototype e nel momento in cui questa funzione viene creata questo person prototype che viene creato automaticamente viene inserito come valore della proprietà prototype notate bene la prototype non questa con le quadre quindi la proprietà prototipo della funzione person quindi se scriviamo person punto prototype accederemo a questo oggetto che è il padre di tutti i prototype quindi è puntato da tutti i prototype di tutti gli oggetti che verranno creati con il new usando quella funzione ok questa funzione ha anche un suo prototype che va a finire nel function punto prototype che non è nient'altro che il prototipo che viene creato nel momento in cui è stato creato l'oggetto globale function che ha un suo prototipo e un suo prototype che in questo caso per l'oggetto globale e function coincidono esso stesso è un oggetto quindi tutto quanto va sempre a riferirsi dal punto di vista del prototype con le quadre al oggetto al padre di tutti gli oggetti che è l'obgetto prototype che ha poi il suo prototype null quindi questa è la situazione da ricordare che ogni volta che creiamo una nuova funzione quindi person in questo caso viene creato l'oggetto person e viene creato l'oggetto person prototype che viene assegnato al prototype non quello con le quadre ma il prototype diciamo così punto prototype cioè la proprietà prototype della funzione person questo è importante da capire e il person prototype sarà condiviso da tutti gli oggetti che vengono creati con il new su quella su quella funzione quindi se noi avessimo un const p2 uguale new person avremmo un p2 qui sotto che punta a person prototype lo stesso person prototype così come se creassimo un d2 d2 uguale new date avremmo un d2 che punta di nuovo al date prototype questo mi raccomando è molto importante da capire fermatevi su questo schema e cercate di capirlo bene fino a quando l'avete capito proprio appunto a fondo se non ci riuscite fate delle prove aprite il visual studio code fate analizzate questo codice passo per passo fino a che riuscite a capire questo meccanismo perché è la base per riuscire a capire tutto il resto nelle slide seguenti quindi abbiamo l'object prototype cioè la catena dei prototype che finisce sull'oggetto di nome object.prototype che è quello che viene creato come padre di tutti gli oggetti e che ha come quadre quadre prototype null quindi è l'oggetto in cima della catena dei prototype di questi prototype quelli con le quadre su object prototype sono predefinite tutta una serie di proprietà e metodi che sono comuni a tutti gli oggetti javascript e questo è il motivo per cui qualsiasi oggetto che abbiamo possiamo diciamo manipolarlo con una serie di metodi per esempio il toString che è quello che viene implicitamente chiamato quando facciamo console.log è definito su object prototype poi può essere ridefinito su altri su altri oggetti a seconda del tipo per esempio il data avrà il suo modo di ridefinirlo eccetera però di default nel momento in cui per esempio prima chiamiamo console.log r verrà chiamato r il toString che è il toString che non abbiamo definito noi perché da nessuna parte abbiamo scritto un toString ma è quello che viene definito e già definito anzi sull'object prototype quindi ogni oggetto può avere come sempre una serie di proprietà che possono anche essere dei metodi perché sapete che la distinzione in javascript tra proprietà e metodi è solamente che un metodo è una proprietà che contiene un reference a una funzione tutti gli oggetti creati tramite gli object literal cioè con la notazione e parentesi graffe hanno lo stesso prototipo lo stesso oggetto prototipo che è object prototype cioè questo che vedevamo prima nella slide quindi questo qui questo è il padre di tutti e che è quello che ha come quadra prototip null vediamo quindi proprio questo esempio sul visual studio code ho fatto copia e incolla dalle slide è veramente semplice potete anche direttamente scriverlo quindi in un file js debug start debugging ho messo un breakpoint sulla prima linea eseguiamo passo passo e quindi prima di tutto definiamo la nostra persona funzione persona usciamo dalla definizione e avremo una persona che è una function che vedrete ha il suo prototype che è il person prototype che vedevamo nel disegno e poi ha anzi si il person prototype e poi punta al function prototype questo è il function prototype vedete che qui c'è la sintassi che è il doppio underscore mi raccomando provate ad andare ad esplorare queste proprietà adesso andiamo avanti nel codice così vediamo per esempio che so r r che è il più semplice r è un object e come vedete ha il suo quadra prototype che qui è scritto come underscore proto e vedete che punta a object object prototype quello che è nel disegno object prototype che ha tutte le proprietà che dicevamo quindi ha toString che è quello che ci consente per esempio di prendere una rappresentazione in formato string e così via notate che è quello che ha il proto uguale a null nel momento in cui che so ci spostiamo su D D avrà come come prototype il quadra prototype l'oggetto che ci ci consente di andare a lavorare sulla data quindi il date prototype e qui non è riportato il nome perché ci sarà poi una qualche proprietà che ci dice qual è il nome vedremo dopo però ci sono tutti i metodi che ci aspettiamo di trovare su un oggetto di tipo date get date get hours get time eccetera eccetera quindi andate ad esplorare queste queste proprietà così capite per bene quel meccanismo di cui abbiamo parlato e di cui trovate il disegno quegli oggetti sulla destra sono l'oggetto object che è quello che abbiamo visto anche sopra che è linkato appunto dal prototype e che ha come proto come proto come vedevamo il function prototype che a sua volta avrà come prototype l'oggetto prototype che a sua volta sarà null e così via quindi se cercate troverete anche il function function eccolo qua che avrà come prototype e sia la proprietà prototype che il proto function le quali saranno un oggetto object prototype che sarà il null quindi ritrovate le stesse cose più volte perché sono linkate allo stesso oggetto all'interno dell'ambiente di esecuzione parliamo ora del modo di collegare il prototype di oggetti differenti per collegare il prototype ovviamente parliamo di quello con le quadre quello che abbiamo visto prima quello che vedete nel viso studio code come underscore con underscore proto per collegare quello di un nuovo oggetto a quello di un altro oggetto è sufficiente usare il metodo object.create che collegherà il prototype del nuovo oggetto che viene creato da object.create che crea un nuovo oggetto al object che gli passiamo quindi prendiamo questo esempio molto semplice R un oggetto creato con object.literal quindi con le graffe object.create su questo oggetto e quindi creiamo un nuovo oggetto che assegniamo a R2 che è il reference a questo nuovo oggetto che avrà come quadra prototype l'oggetto di prima R ok perché vogliamo fare una cosa di questo tipo? di fatto per poter realizzare una catena di oggetti quindi cominciare a lavorare con catene di oggetti che sono poi il modo che serve a realizzare il meccanismo dell'ereditarietà in javascript quindi avere delle proprietà che non stanno sul nostro oggetto ma stanno su oggetti padri e che possono eventualmente essere in comune tra più oggetti figli o comunque essere disponibili sui vari oggetti figli quindi il nuovo oggetto tra l'altro è un oggetto indipendente come tutti gli oggetti in javascript ogni nuovo oggetto è un oggetto a sé stante è linkato ad altri ma è un oggetto che vive per conto suo quindi come tale può essere anche modificato gli si possono aggiungere proprietà togliere proprietà e così via quindi aggiungere proprietà è la cosa più semplice sappiamo che in javascript il meccanismo è oggetto punto nuovo nome della proprietà uguale a qualcosa e questa viene immediatamente creata quindi se vogliamo creare una nuova proprietà la creiamo su r2 ovviamente non va a finire su r su r alle sue la cosa interessante è come facciamo accesso a proprietà che non stanno sull'oggetto stesso ma stanno più in alto nella catena diciamo delle proprietà degli oggetti a cui siamo collegati quindi diciamo che in termini classici da cui ereditiamo quindi come facciamo ad accedere alle proprietà ereditate in realtà come abbiamo detto non è un'ereditarietà vera come quella dei linguaggi oggetti puri tipo java però è diciamo un meccanismo che si basa su queste catene dei quadra prototype per leggere le proprietà la cosa è molto semplice se la proprietà c'è sull'oggetto è quella e se non c'è si va a scorrere tutta la catena dei prototype con le quadre e se si trova da qualche altra parte il suo valore viene utilizzato e se raggiungiamo il null chiaramente non c'è e quindi verrà ritornato undefined quindi dovete sempre avere in mente queste catene queste rappresentazioni e se andiamo a cercare di leggere min su r2 vedrete che ci riusciamo perché non c'è su r2 ma tramite il prototype risaliamo ad r a min e allora possiamo utilizzarlo in lettura nel momento in cui scriviamo le proprietà invece la cosa funziona in maniera un po' diversa non si segue la catena dei prototype quindi nel momento in cui la proprietà viene creata viene creata sull'oggetto stesso e se per caso la proprietà non c'è sull'oggetto anzi questo è il caso comune non c'è sull'oggetto questa viene creata e se c'è sugli oggetti a monte nella catena dei prototype queste proprietà a monte sono nascoste sono shadow quindi non sono più accessibili questo in realtà non è del tutto vero ma diciamo che per la trattazione in questo momento è meglio non complicare le cose perché ci sono certi tipi di proprietà come setter gets eccetera che diciamo funzionano in maniera leggermente diversa quindi se noi andiamo a vedere l'esempio di prima sempre lo stesso disegno e facciamo qualche operazione ci rendiamo conto di come funzionano le proprietà in questa catena dei prototype di nuovo provate questo codice per esempio visual studio code e effettivamente vedete se risultate quello che vi aspettate o no così diciamo riflettete su eventuali cose che potreste non aver compreso correttamente se noi abbiamo r e andiamo ad accedere alla proprietà min min è una proprietà di r qui sotto e quindi ovviamente possiamo accedere possiamo anche impostarla r min 5 la cambiamo la cosa interessante è che se facciamo r2 min e quindi vogliamo leggere r2 min ovviamente min non c'è su r2 andrà ricercata nella catena dei prototype andiamo a prendere quella di r e quella di r non è più 0 ma è 5 cambiata e quindi la vedo anche tramite r2 r max 30 cambiamo anzi cambiamo creiamo una proprietà max su r2 diventa una max qui che non c'è sulla slide comparirà qui 50 e nel momento in cui andiamo a leggere la proprietà max di r resterà 30 sarà sempre 30 sarà sempre quella originale perché se è stata creata una con lo stesso nome che quindi nasconde quella a monte nella catena dei prototype questo mi sembra ragionevolmente facile da comprendere veniamo ora ad un argomento un pochettino più complicato come funzionano le funzioni che agiscono da costruttore abbiamo già visto il disegno di prima in versione semplificata qui lo vediamo in versione completa abbiamo visto il const p new person e abbiamo detto che chiaramente p ha un quadro prototype che punta a person prototype che è quella cosa che viene creata automaticamente nel momento in cui andiamo a creare la funzione person prima ancora del new quando abbiamo fatto function person quindi qui creando function person vengono fuori questi due oggetti person e person prototype person prototype che punta all'objet prototype e questo lo sappiamo è già creato che è quello che poi punta a null il person prototype cosa che non abbiamo detto prima semplicemente per per non diciamo complicare troppo la trattazione ma lo chiariamo qua ha anche una proprietà che si chiama constructor che punta all'oggetto che corrisponde alla funzione cioè ricorda qual è la funzione che ha creato person prototype quindi di fatto ci consente di sapere qual è la funzione da richiamare nel momento in cui vogliamo usare questo elemento come costruttore quindi nel momento in cui un oggetto viene creato con una funzione costruttore tutte le funzioni possono essere costruttore perché sono create già col prototype e lo diventano costruttore nel momento in cui le chiamiamo col new quando facciamo questa operazione il prototype quello con le quadre dell'oggetto è settato all'attributo prototype punto prototype quello senza quadre della funzione dell'oggetto della funzione person che viene creato automaticamente nel momento in cui si crea la funzione come diciamo qui function prototypes automatically generate cioè noi creiamo una funzione e questa funzione ha il suo prototype e in più cosa che non avevamo detto prima contiene un punto constructor che si riferisce alla funzione stessa così che quando facciamo un new su person person va a impostare il person prototype e il person prototype è quello collegato alla funzione stessa volendo riassumere quanto abbiamo visto finora e la visibilità delle proprietà proprie e quelle diciamo ereditate anche se ereditate appunto un termine un po' scorretto per javascript dovremmo piuttosto dire linkate tramite il quadra prototype il meccanismo funziona nella seguente maniera nel momento in cui usiamo il for in e notate questo è l'in non è l'off for in quindi in object scorriamo tutte le proprietà proprie dell'oggetto ma anche quelle che troviamo risalendo nella catena dei prototypes stessa cosa quando accediamo ad una proprietà dell'oggetto quindi sono visibili quelle dell'oggetto stesso ma anche quelle di tutta la catena a risalire posto che non ce ne siano quando troviamo quella che nasconde quella di un oggetto più in alto nella catena chiaramente lì ci fermeremo per quanto riguarda invece il settaggio delle proprietà nel momento in cui andiamo a settare una proprietà questa viene settata come proprietà propria dell'oggetto e non viene impostata quella a monte dell'oggetto stesso nella catena con quella distinzione che ci sottolineavamo prima che però per ora non ci interessa nel momento in cui usiamo funzioni come entries values keys applicate ad un oggetto queste ci ritornano tutte le chiavi quindi il nome delle proprietà i loro valori o le coppie nome valore solamente dell'oggetto stesso e non si va a scorrere la catena di prototype infine c'è questo metodo su ogni oggetto che è get own property names che come dice il nome ovviamente ci dà solo le proprietà stesse dell'oggetto ed è forse un po' più chiara più facile da ricordare comunque la tabella non è difficile ricordare lavoriamo sempre solo sulle proprietà dell'oggetto stesso tranne nel caso in cui usiamo il for in che è il motivo per cui dicevamo di non usarlo sugli array eccetera a meno che non sappiamo quello che stiamo facendo di usare di usare invece il for off e l'accesso tramite l'annotazione del punto questa tabella riassume presa dalla Mozilla developer network riassume le differenze tra un linguaggio basato su classi quindi tipo java per esempio quindi classi e istanze create dalle classi e invece un linguaggio basato su oggetti che sono collegati tramite il meccanismo di prototipi come javascript quindi in java linguaggio class based le classi e le istanze sono due cose completamente distinte la classe è diciamo lo stampo con il quale vengono creati le istanze però c'è solo una classe definita tempo di scrittura del codice compilata e quella è quella rimane invece in javascript tutti gli oggetti possono ereditare o per meglio dire essere linkati l'uno con l'altro da un altro oggetto la definizione avviene con una definizione di classe e si istanzia con il metodo costruttore questo in un linguaggio oggetti tradizionali class based e invece in javascript si definiscono e si creano gli oggetti tramite le funzioni costruttore quindi delle funzioni delle normali funzioni a cui però come dice la riga successiva si usa davanti l'operatore new quindi questo sia in javascript sia in java dove però appunto si fa new nome della classe e non nome del costruttore come invece succede in javascript come si fa a creare una gerarchia nel linguaggio tipo java chiaramente si fa a tempo di scrittura del codice viene compilata class extends eccetera e invece qui in javascript si costruisce una gerarchia tramite l'assegnamento corretto dei quadra prototype che sono quelli che costruiscono la catena dei prototipi e ci dicono da quali altri oggetti andare a prendere proprietà quindi il modello di di ereditarietà segue diciamo le classi in java mentre invece in javascript segue la catena dei prototipi in java non è possibile estendere le proprietà cioè crearne di nuove cancellarle eccetera mentre sapete che in javascript è tutto molto più dinamico quindi le funzioni costruttore specificano le set iniziali di proprietà e poi queste possono essere aggiunte a singoli oggetti quindi singoli oggetti che sono collegati con il quadro prototipo e lo stesso prototipo possono avere un set di proprietà differenti possiamo cancellare proprietà e così via quindi queste sono le principali differenze da ricordare vogliamo ora creare un meccanismo di ereditarietà tramite questa funzionalità dei prototipi che è l'unica che abbiamo a disposizione in javascript quindi non possiamo fare altro che usare questo meccanismo delle catene dei prototipi e quindi vorremmo cercare di simulare quello che si fa in un linguaggio di programmazione oggetti tradizionale per quanto riguarda l'ereditarietà tramite questo meccanismo dei prototipi e quindi vedremo come è possibile farlo in un primo esempio a mano e poi successivamente nel resto della lezione impareremo a usare diciamo le keyword che ci mette a disposizione il javascript più moderno che però al di sotto funzionano esattamente come spieghiamo qui in questa prima parte quindi vale la pena di fare attenzione per sapere come effettivamente vengono poi gestite le cose che sono diverse da quelli di un linguaggio di programmazione oggetti tradizionali come java quindi bisogna sostanzialmente andare a collegare correttamente i prototipi nel momento in cui creiamo gli oggetti che vogliamo che ereditino da altri oggetti vediamo il tutto tramite un esempio che vediamo passo per passo provate poi questo esempio che trovate su una slide completo di nuovo nel viso studio code perché è importante capirlo e capirlo bene così ci impadroniamo di questo meccanismo di gestione dell'editarietà tramite i prototipi facciamo l'esempio classico che è quello di descrivere una persona generica i suoi interessi eccetera quindi una serie di proprietà e un metodo che in javascript come sapete non è nient'altro che una funzione assegnata ad una proprietà quindi diciamo function person name age game con i suoi diciamo valori memorizzati nell'oggetto e una funzione quindi un metodo che ci stampa qualcosa ovviamente possiamo aggiungere metodi non solo nel oggetto stesso quindi come abbiamo visto prima dopo aver fatto new person ma possiamo andarle ad aggiungere anche nel prototype perché alla fine il prototype viene orientato che è una proprietà di person e person è l'oggetto che rappresenta la funzione person prototype è il prototype della funzione quello linkato con le doppie quadra prototype e su questo possiamo lavorare perché anche questo è un oggetto e quindi anche lì possiamo creare nuove proprietà in particolare possiamo provare a creare una proprietà show age che a cui viene assegnato riferimento a una nuova funzione che creiamo e che fa una cosa differente da prima ci mostra dei campi differenti quindi possiamo aggiungere metodi come proprietà nel oggetto prototipo della funzione costruttore che è quella che useremo con il new il risultato è che diciamo quindi abbiamo due modi diversi di creare delle funzioni e anche delle semplici proprietà nel momento in cui abbiamo degli oggetti in javascript creati con il new possiamo andare a farlo nel function body cioè nel codice come abbiamo visto prima display uguale oppure possiamo andarlo a fare sul prototipo qual è il vantaggio e lo svantaggio beh c'è una questione diciamo di dettaglio cioè che nel momento in cui lo facciamo nel body tutte le volte che viene creato un nuovo oggetto la funzione viene rieseguita e quindi c'è da ricreare una nuova funzione e quindi sarà un pochettino più lento mentre è un po' più veloce farlo sul prototipo quindi diciamo in un caso consumiamo più memoria in un altro consumiamo meno memoria però questi diciamo sono un po' dettagli le cose importanti sono le ultime due se lo facciamo nel body sono proprietà del singolo oggetto e quindi possono essere ridefinite cambiate eccetera sulla singola chiamiamole istanza però diciamo l'oggetto creato col new il nuovo oggetto creato col new se invece lavoriamo sul prototipo il prototipo è linkato da tutti gli oggetti creati col new ed è lo stesso prototipo lo stesso oggetto prototipo e quindi se andiamo a modificare qualcosa lì verrà per tutti gli oggetti linkati quindi tutti gli oggetti creati con la new usando quella funzione costruttore e quindi nel momento in cui creiamo una show age questa show age sarà accessibile tramite la catena dei prototipi da tutti gli oggetti creati col new new person ed è la stessa identica funzione quindi se la cambiamo per una la cambiamo per tutti quindi c'è questa differenza sostanziale da capire ed anche la seconda ossia che nel momento in cui definiamo una funzione qui dentro chiaramente una funzione qui dentro diciamo accesso allo scope lessicale di function person e quindi potrà andare ad accedere a variabili locali definite nel costruttore quindi non quelle col dis che sono comunque accessibili anche nel prototipo ma a quelle locali perché viene ricordato reference tramite il meccanismo delle closure e qui capite perché avevamo bisogno di sapere cosa sono le closure qui invece siccome non diciamo non possiamo siamo in un posto diverso non c'è lo scope lessicale che ci aiuta non possiamo accedere a variabili locali diciamo che sono utilizzate nel costruttore dell'oggetto quindi queste sono le differenze fondamentali da ricordare procediamo nel nostro esempio creiamo una nuova persona niente di particolare chiamiamo i suoi metodi quindi fate vostre prove creiamo una seconda persona new person eccetera si comporta come una nuova istanza diciamo come si comporterebbe in qualsiasi linguaggio di programmazione oggetti nuova istanza con le sue proprietà separate dalla precedente e avremo a disposizione il play perché è stato creato un nuovo play per questa nuova istanza e avremo a disposizione anche il show age che non è sull'istanza quindi non è stata creata qui ma è stata creata sul prototype quindi è lo stesso show age dell'altra persona che abbiamo eventualmente creato prima e quindi userà il tisse e chiaramente ci stamperà i valori dell'istanza sulla quale viene richiamata quindi joe in questo caso però è la stessa funzione viene ricercata così come le proprietà nella catena dei quadra prototype all'insù fino all'oggetto fino all'oggetto padre adesso proviamo a realizzare il meccanismo dell'ereditarietà quindi vogliamo creare un oggetto in questo caso uno studente che eredita da persona quindi creiamo un costruttore perché vogliamo il costruttore dello studente vogliamo poter fare new student quindi nel momento in cui vogliamo utilizzare possiamo solo utilizzare questo meccanismo di prototipi dobbiamo dentro il costruttore di studente per prima cosa costruire una persona come parte dell'oggetto eventualmente aggiungeci le sue proprietà e i metodi e alla fine mettere a posto la catena dei link dei quadra prototype in maniera che tutto funzioni correttamente quindi vediamo il codice function students quindi nuova funzione costruttore diciamo che prendiamo un parametro addizionale così aggiungiamo qualcosa di peculiare dello studente che è la scuola di school uguale school prima però andiamo a creare l'oggetto person o meglio più che l'oggetto person non vogliamo creare un oggetto person separato vogliamo eseguire il codice del costruttore di quello che considereremo la classe padre ma in realtà non è la classe ma qui è l'oggetto padre e per farlo possiamo usare questa speciale sintassi che vedremo quando si parla del dis cioè andare a chiamare la funzione person che è una funzione un oggetto funzione quindi a disposizione un metodo .call che gli deriva dai suoi prototipi e la chiamiamo su questo oggetto così che su questo oggetto verranno creati il this name this age this game come si faceva per student e poi in più ci aggiungiamo il nostro this school e a questo punto abbiamo quindi un nuovo la possibilità di fare new student e avremo a disposizione il diciamo le varie le quattro proprietà su student quindi abbiamo messo a posto le proprietà abbiamo a disposizione il metodo che è stato creato insieme a quello di person ma è stato creato sull'oggetto student ma non abbiamo a disposizione il show age che prima invece avevamo a disposizione e quindi come facciamo a metterlo a posto perché show age non è una funzione nel senso lui non lo trova e quindi di fatto dice che non può richiamarlo come una funzione perché è nel prototype ma di person non di student nel momento in cui abbiamo fatto abbiamo fatto eseguire questo codice quindi anzi abbiamo fatto compilare questo codice function student con questo codice è stato creato un oggetto student e è stato creato un oggetto student prototype ma in student prototype non c'è il show age perché noi nel codice l'abbiamo aggiunto a person prototype non a student prototype e quindi dobbiamo mettere a posto questo aspetto di nuovo proverete poi nel codice vi suggerisco di farlo in viso studio code il riassunto di tutto questo codice che troviamo sulla slide più avanti e andate a verificare che capiate perfettamente questo diagramma noi in questo momento siamo nella situazione in cui abbiamo il nostro mag che era stato creato col new di student che ha punta col suo quadra prototype lo student prototype perché è stato creato con new student quindi ovviamente ha student prototype come diciamo riferimento del suo prototype con student prototype viene un prototype e viene un constructor come abbiamo visto nell'esempio delle function in questo delle function che funzionano come costruttori c'è il suo prototype che è l'object prototype quindi quello comune a tutti e il constructor quindi in questo momento senza eseguire ancora questo codice abbiamo il prototype che va sull'object prototype quindi quello comune a tutti e il constructor che dovrà poi essere messo a posto come facciamo è possibile assegnare direttamente un valore a student prototype e creiamo un nuovo person prototype quindi creiamo questo person prototype e quindi stiamo dicendo di mettere il quadro prototype di student prototype in maniera che punti a person prototype nel momento in cui facciamo quest' operazione ci ritroviamo con un ci ritroviamo con uno student prototype quindi student prototype è questo che è il person prototype quindi abbiamo creato una copia del person prototype però vogliamo che il suo costruttore sia un qualcosa che punta student perché deve crearci uno student perché vogliamo creare il person prototype perché così abbiamo a disposizione il metodo che avevamo messo su person prototype che era quello show age però nel momento in cui colleghiamo a person prototype lo student prototype gli oggetti che andiamo a creare diventeranno delle persone non diventeranno più degli studenti e allora dobbiamo andare a rimettere a posto la proprietà constructor in maniera che punti alla funzione studenti in maniera che ci crei degli studenti fatta questa operazione potremmo fare anche un passo ulteriore addizionale ossia ridefinire metodi sulle diciamo su ciò che viene ereditato tramite la catena dei prototype per esempio potremmo ridefinire il metodo show age con qualcosa di peculiare per il nostro studente quindi su student prototype show age quindi creare lo show age specifico dello student che in questo momento non esiste ed è quello preso a monte nella catena di prototype dal person prototype che però abbiamo fatto puntare come costruttore allo student tramite appunto del codice che ci scriviamo e qui aggiungiamo una stampa e più per far vedere che effettivamente è il metodo dello student e non quello del person e poi possiamo anche andare a richiamare direttamente lo show age del person quindi person prototype show age call su questo oggetto this che sarà lo studente questo è un po' l'equivalente di chiamare il metodo super in linguaggi di programmazione oggetti tradizionali per esempio java che ci consente di chiamare metodi nella classe padre quindi qui trovate il riassunto diciamo di tutto il codice che abbiamo visto provate a copiarlo e a eseguirlo e debaggarlo dentro il visual studio code per rendervi conto bene di come funziona tutto il meccanismo e soprattutto andare a vedere dove si appuntano i vari prototype ad ogni istruzione come questi vengono modificati e potete farlo comodamente nella parte a sinistra che vi mostra tutte le proprietà incluse questa doppia quadra prototype che in realtà si chiama underscore proto nel visual studio code e tra poco vedremo diciamo come riuscire a riorganizzare tutto questo meccanismo che per ora abbiamo dovuto creare in maniera del tutto manuale diciamo aggiustando i vari prototipi e così via con un meccanismo un po' più evoluto messo a disposizione a versioni più recenti del linguaggio cioè in particolare meccanismo diciamo del keyword class e così via a cui siamo più abituati però ricordate che sotto il funzionamento resterà sempre questo che è quello appunto di javascript e così via